Come tutte le sospensioni hanno una natura cautelare, nel senso che per dare il tempo al comandante Nesci di rispondere ai lievi e all'episodio contestato dalla prefettura, ho dato anche io dieci giorni di tempo in modo che mi possa relazionare. In questo periodo il clima al comando non è del tutto sereno e quindi ho ritenuto di fare una sospensione di 30 giorni in attesa dell'evolversi della situazione.